Con il decreto mille proroghe il governo ha deciso di prorogare di un anno la ricetta elettronica ovvero la possibilità di inviare la prescrizione dematerializzata per sms e per email. La misura scadeva il 31 dicembre e da giorni i sindacati dei medici di famiglia chiedevano la proroga che velocizza il lavoro dei medici e riduce i tempi di attesa dei pazienti. Durante il covid ci fu un'ordinanza del ministero della salute per evitare che le persone potessero accedere direttamente agli ambulatori di fare una ricetta che poi veniva trasferita con o l'sms o con una con la posta elettronica con un indirizzo email. Ora il ministero ci dovrà dire come procedere andranno studiate sicuramente altre forme che soprattutto tutelino anche la sicurezza e la privacy. Questa procedura che a voi ha semplificato la vita ma l'ha semplificata anche a tanti pazienti. Indubbiamente sia noi in particolare pazienti che sono potuti rimanere diciamo nella propria abitazione senza dover venire in ambulatorio e accedere alla serie d'aspetto nel periodo soprattutto del covid. Questa è stata una decisione importante che ha cambiato un po' la vita e adesso sarebbe come tornare indietro secondo lei? Indubbiamente, indubbiamente se è possibile la cosa migliore sarebbe prorogarla e definitivamente voi perché questa è ormai anche i pazienti sono abituati ad avere questo servizio quindi diventa anche difficile da un giorno all'altro dirgli beh da domani venite e dovete venire a prenderla in ambulatorio. Grazie. Grazie.